Godetevi le stupende caratteristiche di questa bellissima casa presentata da Berry Plant. Si è presentata un'opportunità per assicurarvi questo ottimo immobile. Contiene una stupenda cucina funzionale che farà piacere ai cuochi della famiglia. Ampie camere da letto che vi farà sentire comodi e rilassati. Chiamate ora per fissare un appuntamento.